ehi come va bene ma siamo in diretta certo che sei triste che siamo in diretta mi volevi di qualcosa non in diretta dimmela lo stesso senza problemi solo che non ho troppo tempo ti volevo dire va bene alex ce lo facciamo bastare alla grande sento 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 un casino ale allora io parto proprio a bomba visto che ci abbiamo poco tempo ma che posta iscritto oggi hai fatto la lista degli ultimi 30 anni mi sono segnato qualche punto trattativa stato mafia napolitano con intercettazioni letta vedrò ma io dico una lista così dovrebbe aprire l'ha iscritta per quelli del per come mete che hanno fatto il salto no bisogna che ci rendiamo conto cioè le informazioni ormai ce l'abbiamo la verità è sotto gli occhi di tutti abbiamo degli esempi drammatici negli ultimi 30 anni che oggi con un posto ho provato appunto a sintetizzare sicuramente avrò anche dimenticato qualcosa però abbiamo anche tennis degli esempi incredibili io penso la piazzeria di cagliari le centinaia di agorà che stiamo facendo c'è qualcosa di straordinario in questo movimento notavo anche tantissimo una crescita esponenziale del numero dei giovani che si stanno interessando la politica finalmente la nostra vittoria è che i cittadini italiani si interessino la politica questi sono gli esempi positivi di contraltarci sono degli esempi stranegativi che vengono gli ultimi 30 anni dalle stragi impunite alle trattative stato mafia alle ultime trattative stadio mafia in cui probabilmente la mafia non sono neanche gli ultra la mafia quella vera quella più socialmente pericolosa e oi cittadini italiani se ne rendono conto iniziano a schierarsi o è dura Ale stai girando l'italia in lungo e in largo la stai vedendo una differenza quell'onda io l'anno scorso con lo tsunami ho notato un'onda che cresceva un aumento di persone man mano che ci avvicinavamo al voto la state notando anche voi sta avvenendo anche quest'anno sì e poi noto una crescita qualitativa di tutti noi come zoccolo duro come diciamo una una un settore importante della della società delle cittadini italiani cioè mentre nel 2013 c'era obiettivamente a riempire le piazze soprattutto beppe ed era beppe che ci dava soprattutto le informazioni attraverso i blog attraverso il lavoro anche di meet up però c'era obiettivamente eravamo molto grillo centrici ormai no ormai il movimento va avanti con le proprie gambe c'è sempre beppe grazie a dio perché è un grande ma c'è un gruppo di cittadini di parlamentari della repubblica al senato alla camera tanti meet up persone informate che prima non conoscevano la differenza tra un emendamento un ordine del giorno non sapevano che cosa fosse l'articolo 138 non si erano mai letti il piano di rinascita democratica di il ciogelli un piano che si sta seguendo che stanno provando a seguire i partiti per riformare la costituzione ormai c'è davvero la possibilità di trovare tutte le informazioni avere tutti gli elementi per schierarsi schierarsi è difficile uno che si schiera tu lo sai perde degli amici subisce degli attacchi soffre di ansia gli vengono gli attacchi di panico sono è dura schierarsi è dura prendere una posizione scegliere significa rinunciare a qualcos'altro ogni scelta è una rinuncia ma ora abbiamo un treno che passa il treno è questo treno fatto di entusiasmo di partecipazione democrazia vera sta passando se vinciamo gli europei davvero li si mette malissimo ma renzi lo accolterà accoltelleranno politicamente gli stessi suoi alleati pidini se il partito democratico scende sotto al 30 per cento lo fanno fuori loro renzi direttamente abbiamo la possibilità di andare al governo attraverso una vittoria degli europei che porterebbe speriamo allo scegliamento delle camere quindi a nuove elezioni politiche bisogna dare tutto soprattutto i giovani ma anche meno giovani cioè le persone che hanno questo entusiasmo devono convincere persone un po' più anziane che hanno un po paura non so se tu ci fai caso una persona anziana se gli dici sposta quel quadro non sta bene l'insalotto soffre l'ha sempre visto lì quel quadro io lo voglio lì quel quadro sì sì è vero è vero noi a paderno noi a paderno d'uniano l'entusiasmo dei giovani si può cambiare anche questa mentalità un po più radicata nelle persone diciamo più mature guarda noi a paderno d'uniano abbiamo anche le elezioni amministrative no e in questi giorni abbiamo adottato una campagna interna nostra per tutti gli attivisti che vedendo appunto i i sondaggi bassi su sulle persone anziane che è adotta un nonno come scusami adotta un nonno convinci un nonno carina questa poi ci sono molte persone diciamo un po più anziane illuminate partecipe che navigano sul web attenzione a me è capitato di fare volantinaggio c'era una persona un ottantenne che si è fermato gli ho dato il volantino mi ha detto no no me lo scarico sul web così risparmiamo carte avevo 80 anni per cui neanche fossilizziamo fossilizziamoci troppo sul fatto che tutte le persone anziane siano disinformate non è così però oggettivo basta vedere certe statistiche che il 48 per cento dei giovani sta con noi il 48 per cento mentre da sopra i 65 l'8 per cento è informata e conosce il 5 stelle tanti pensano che siamo solo urlatori fascisti sfascisti squadristi potenziali stupratori eversivi bolshevichi comunisti di qualsiasi cosa perché perché i media di regime hanno raccontato questa balla migliaia di volte e purtroppo a coloro che si informano esclusivamente attraverso le tv un po attecchito per quello è importante il lavoro il porta a porta cioè il giovane che ha maggiori stimoli anche maggiori voglia di rischiare di giocarsi la partita sul serio perché ovvinciamo davvero ci sarà un fuggi fuggi addirittura peggiore dall'italia da parte dei giovani e i giovani si devono sforzare devono riuscire a convincere le persone più anziane non a votare 5 stelle ma informarsi a diciamo a perdere il pregiudizio nei confronti del 5 stelle perché siamo vittime di un pregiudizio mentre i partiti condannati gli inquisiti pidduisti mafioncelli sono vittime di spesso di sentenze noi siamo vittime di un pregiudizio cioè persone che non ci conoscono però dicono quelli urlano invece non urliamo stiamo facendo esattamente quello che abbiamo sempre detto che avremmo fatto è vero scusa ma fammi capire bene alessandro tu hai trovato un ottantenne ok che sapeva navigare sul web e poi non è il sindaco di bari emiliano che non è riuscito a scaricarsi le nostre proposte di legge gliele dovute scaricare te e inviare tu giusto siamo siamo a questo livello ma forse il sindaco di bari voleva incontrarmi non lo so sai come come magari incontrare personalmente noi siamo molto occupati sempre e si poteva appunto scaricare le proposte ma comunque gli erano mandate emiliano sarà anche una brava persona io non lo metto in dubbio dice spesso delle cose condivisibili non riesco a capire come possa una persona che è una brava persona e che dice delle cose condivisibili stare all'interno di un partito che oggi è peggiore della più becera forza italia cioè si comportano peggio guarda la questione per pelu uno può essere d'accordo o meno con quello che ha detto piero pelu attenzione non è che per forza ha detto una cosa giusta perché è andato contro renzi non lo valuterà ma attaccare pelu e in quel modo con una macchina del fango tipica bellusconiana è solo tanto perché ha utilizzato il palco da artista e ha espresso un parede la stessa cosa che hanno fatto sempre tutti gli artisti cantanti contro bellusconi e lì il partito democratico andava in difesa della libertà di parola dei cantanti degli artisti quando i bellusconiani li attaccavano dicendo che facevano attacchi strumentali e oggi questi renziani che pelu tra l'altro fa sempre durante tutti i suoi concerti che poi più vanno in tv e più ci portano voti essenzialmente si permettono di fare davvero come dire di mettere in campo la macchina del fango che neanche le santanchei gasparri avevano mai realizzato cioè non c'è nulla di più pericoloso dei falsi amici sono d'accordo volevo farti volevo dirti una cosa volevo avvisarti di una cosa le oggi salvatore borselino ha fatto un post per l'intervento del csm che ha tolto che ha tolto a di matteo poi vabbè leggitelo adesso ci abbiamo poco tempo e ha concluso il post anche lui citando la canzone di maggio che la stessa che hai usato tu per per emiliano verremo ancora le vostre porte busseremo sempre più forte io ti volevo dire perché a distanza di un giorno tutte e due l'avete usata non lo sapevo me lo devo leggere il post sì sì t'ho avvisata apposta per questo csm non l'ho approfondita sì 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 no ma è uscito fuori qualche minuto fa e quindi per quello che per quello che ti avvisavo senti sai che cosa mi piace è già la seconda terza volta che te la che te la vedo fare quando sei alla gorà che smascheri la vera faccia del pd no non mi ricordo in che piazza era è venuto uno hai fatto salire sul palco un consigliere del pd non ho capito bene che cos'era e l'ha iniziato a incalzare ti sei incazzato anche con la piazza che 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 lo fischiava e detto no lasciatelo parlare e lì è uscito fuori cioè all'inizio ha retto no e poi invece gli hai fatto dire gli hai fatto tirare fuori che sono che sono a favore degli f35 forse a livello basso riescono ancora a essere sinceri sì sì è verissimo bisogna farli parlare se li fai parlare le persone si rendono conto se li conosci li eviti bisogna conoscerli in televisione fanno le loro supercazzole sugli f35 dicono che sono contrari però anche un po a favore sulla guerra afghanistan dicono che sono contrari però il diritto dei del popolo afgano e la democrazia e il burka e però stiamo tornando inventano cose non è vero affatto che si sta tornando dall'afghanistan sul conflitto interessi dicono a sì però e ora abbiamo delle cose più importanti da fare sempre la stessa identica storia sul voto di preferenze ce l'hanno menata per 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 anni dicendo che avevamo ragione noi che occorreva tornare alle preferenze una legge torale che permettesse ai cittadini di esprimere una preferenza e poi hanno votato insieme a berlusconi e noi abbiamo presentato tutti gli emendamenti in televisione riescono ancora a mascherarsi di fronte a una piazza in quel modo come è successo a quel candidato consigliere abruzzese invece si sono esattamente mostrati per quel che sono ovvero il partito democratico mi dispiace dirlo perché io l'ho anche votato nel passato quando ero meno informato ci ho anche creduto ma ormai è una latrina e come tutte le latrine si trova in fondo a destra in fondo a destra è bellissima senti ma ma invece parliamo un attimino del sì tu tu ale dimmi tu è quando devi andare alzi la mano e vai e sai che se io inizio a chiacchierare abbiamo abbiamo visto quando ci siamo conosciuti no ti dicevo ma invece la boldrini io inizialmente pensavo che tutte queste espulsioni dicevo madonna santa ma possibile che sono così matti che continuano a buttarci fuori e a permetterci di fare campagna elettorale così gratuitamente in questo modo ma inizia a venirmi il dubbio che forse vi stanno buttando fuori per avere dei vantaggi a livello di votazione dentro dentro la camera esagero oppure qualche qualche dubbio inizia a venirvi fuori anche voi se lo anch'io ho qualche dubbio è una vergogna ma anch'io probabilmente l'ordine di scuderia è quello di decimazione per far passare meglio le loro porcate evidentemente non è più una una semplice ripicca sciocca ma è una strategia sistematica perché sennò è davvero inspiegabile io accetto sempre le sanzioni per amore di dio quando si compiono gli atti anche forti si deve essere pronti ad accettare le sanzioni ma è intollerabile che che ancora non si che ancora si sieda in parlamento franco antonio genovese per il quale si ha chiesto la re le magistratura ha chiesto l'arresto mentre vengano decimati appunto i deputati del momento 5 stelle credo che ci sia sia una strategia di fondo della boldrini che è una passacarte del governo eh sì eh sì quanti quante la peggiore com'è che l'hai definita la peggiore presidente della camera che senza alcun dubbio poi ci avevamo anche delle aspettative pur rappresentando una sinistra morta un partito morto come sella che per raccimolare qualche voto è costretto a chiamarsi come una lista greca perché se no nessuno si sta spaccando migliore vuole fare il renziano cose devastanti però fece un discorso ricordo la boldrini il giorno dell'insediamento che era fu condivisibile io mi alzai più di una volta eh feci degli applausi perché mi sembravano degli ottimi discorsi ma pure le solite chiacchiere ma mai ma mai un fatto reale evidentemente se sei una brava persona non fai parte di questo sistema certo ale guarda io ti lascerei andare dove 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 sei stasera no stasera sto a un incontro municipale a roma a sesto municipio facciamo l'incontro accoglienza però avevo un appuntamento qui e per cui vi devo vi devo salutare va bene ale grazie mille ci sentiamo con più calma un'altra volta grazie a voi un abbraccio a tutti e vinciamo noi vinciamo noi ciao ale